La gravidanza per una coppia è un momento di arrivo, ma anche una fase di transizione. In una coppia che ha deciso di avere un bambino, l'attività sessuale resta un momento importante della vita relazionale. È possibile avere rapporti in gravidanza? La risposta è sì, a meno di controindicazioni indicate dal medico. Un piccolo consiglio per il partner è di assecondare l'attitudine e il sentimento della mamma in modo da poter vivere l'esperienza del sesso in gravidanza nel miglior modo possibile.